Continuano a salire i contagi da Covid-19 nel Salernitano e la comunità di Sanza piange la sua prima vittima. Dopo alcune settimane di ricovero all'ospedale di Agropoli non ce l'ha fatta una 74enne affetta ad altre patologie. Ancora in affanno ai centri vaccinali in città, a Pienone, a Sante Ostacchio, dove gli utenti sono costretti a lunghe attese sotto la pioggia. Dopo i disagi evidenziati dal sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, l'Asla ha annunciato il montaggio di gazebo esterni a IAB di via Ferreria. L'azienda sanitaria di Salerno fa sapere di essere all'opera per limitare i problemi e che l'accesso per le inoculazioni è sempre libero. Intanto, dopo la positività di un medico, situazione sotto controllo all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, nessuna allarme spiega il professor Giancarlo Accarino. Come direttore di dipartimento avevo dato questa disposizione anche un po' in contrasto con una serie di normative, ma per la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori, ogni cinque giorni vengono effettuati tamponi sui pazienti e costantemente su tutti i dipendenti, in quanto purtroppo anche è possibile una trasmissione in tanti modi di questo tipo di virus. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.